Davide Benzi, Carlo Bonifazi, al termine dell'ultimo match della Pool H, un match perso contro la forte coppia olandese, ma il vostro cammino nel mondiale continua? Sì, continua, oggi forse il primo set potevamo fare un po' di più, il secondo set abbiamo giocato meglio, siamo stati punto a punto e poi quando stai punto a punto contano gli episodi e diciamo che l'unica cosa che possiamo forse ramaricarci di questa partita è un po' il primo set, però pazienza, ne abbiamo un'altra domani. Esatto, come detto domani continua il vostro percorso, passate dagli spareggi, che partita vi aspettate domani, qual è anche il bilancio della vostra fin qui, queste tre partite in questo mondiale qui a Roma? Siamo partiti con l'idea di giocare il nostro miglior beach volley, a parte la prima partita contro Molzorum che sono due mostri sacri di questa disciplina, ieri abbiamo fatto un'ottima gara, oggi il primo set siamo partiti un po' sotto tono, poi abbiamo ricominciato a giocare con il nostro gioco, credo che la differenza la faccia l'abitudine anche a giocare questo tipo di competizioni, tecnicamente non abbiamo niente in meno di tante squadre che fanno questo sport, sicuramente fisicamente siamo una squadra che un po' fatica, però ecco, era una partita che avremmo potuto portare secondo me al tiebreak, poi al tiebreak come va va, quindi siamo per ora soddisfatti con la testa adesso ai playoff e per cercare di agguantare la qualificazione ai sedicesimi di finale. Grazie mille, bocca al lupo.